Musica Sul mare lucido, plastro d'argento, plasic de longa, prospero il vento. Sul mare lucido, plastro d'argento, plasic de longa, prospero il vento. Sul mare lucido, plastro d'argento, plasic de longa, prospero il vento. Musica Questa è un'azienda fondata da mio nonno Eugenio, 1914, quindi il prossimo anno noi festeggiamo 100 anni. Per me è un grande motivo di orgoglio, io rappresento la terza generazione, quindi mio nonno Eugenio, mio padre Luigi, adesso ci sono io, festeggiamo il prossimo anno 100 anni. E' un risultato importante, un risultato importante per Marinella, per Napoli, per l'Italia. Portare avanti un'azienda per 100 anni è sempre molto difficile. Io ci sono riuscito perché vivo ancora un'emozione, un'emozione che si ripete ogni giorno dalle 6 e mezza quando apriamo fino alle 8 di sera. Siamo arrivati a vestire i personaggi più importanti del mondo, capi di Stato, ministri, personaggi dello spettacolo e questo ci ha reso molto importanti. Un piccolo negozio da Napoli che è partito da Napoli, principalmente è rimasto a Napoli, ma che ha conquistato il mondo. Musica La nostra ossessione è la qualità. Noi abbiamo sempre dato molta importanza alla qualità e cerchiamo di vendere non solo le cravate, ma tutto quello che c'è di più bello nel mondo. In più, affianchiamo a tutto questo l'artigianalità napoletana. Napoli è famosa ancora nel mondo per il fatto a mano. Quindi noi cravate, camicie, ma anche scarpe, viene tutto fatto rigorosamente, fatto a mano qui a Napoli. Ripeto, adesso noi siamo da un po' di anni, abbiamo avuto anche una piccola presenza anche all'estero, perché fino a dieci anni fa noi eravamo solamente a Napoli. Adesso abbiamo delle importanti presenze in Inghilterra, in Svizzera, a Tokyo e abbiamo anche degli shopping shopping in America, in Francia e in tantissimi altri posti. Una grande produzione non riusciamo a farlo, perché noi siamo artigiani e quindi oltre un certo numero noi non possiamo realizzare, ma in fondo non vogliamo neanche farli. Quindi una produzione piccolina, molto attento al dettaglio, molto attenta alla qualità. Per me è un grande motivo di orgoglio essere partito da Napoli e aver fatto fare il giro del mondo con questo mio nome. Noi abbiamo una politica di espansione molto tranquilla, molto serena. Ripeto, noi abbiamo problemi, se i problemi si possono chiamare, di produzione. Noi siamo artigiani e vogliamo fare tutto noi. Però stiamo dando uno sguardo attento. Se ci fosse ancora interesse su noi in un'altra zona del mondo, noi qualche altra apertura la possiamo fare. Non tantissime, pensiamo di fare nei prossimi anni altre due aperture. Una ci piacerebbe sicuramente a New York, poi vediamo. Noi negli anni abbiamo avuto la fortuna di stare al collo di personaggi molto importanti. Tutti i presidenti italiani sono stati i nostri clienti. Dalla famiglia Kennedy in poi tutti i presidenti americani. Ma abbiamo fatto le cravate anche a Mitterrand, Chirac, Sarkozy, o anche il re di Spagna, Carlo d'Inghilterra, e poi Gorbachev, Putin, e poi Ranieri di Monaco. Insomma, abbiamo fatto cravate molto più lunghe a Col, cancelliere tedesco. Quindi, devo dire, abbiamo fatto tante cravate, abbiamo venduto tanti articoli importanti a personaggi veramente famosi che poi ci hanno fatto da testimonial e ci hanno aiutato a far conoscere questo brand Marinella nel mondo. Benissimo, noi cerchiamo di trasmettere a tutti i nostri clienti uno stile anglo-napoletano. Perché noi siamo nati cento anni fa importando articoli dall'Inghilterra. E però abbiamo nel tempo napoletanizzato un po' questo stile inglese. Quindi è un misto tra stile inglese e stile napoletano. Quindi la rigorosità dello stile inglese con la creatività del Made in Naples. Questo ci ha consentito di farci molto apprezzare fuori ed è uno stile molto apprezzato perché oramai la gente nel mondo è molto attenta al Made in Italy, ma è molto attenta anche al Made in Naples. Quindi quello che noi proponiamo, il tocco di colore, il tocco di creatività, la realizzazione di un tessuto particolare, beh, la gente lo apprezza in maniera molto particolare. Le mie cravate favorite sono queste qua. Noi abbiamo, riusciamo a proporre un campionario settimanale. Quindi abbiamo tante fantasie, ma poco tessuto per ogni fantasia. Queste sono proprio le nostre cravate tipiche, che ripeto, ogni settimana vengono cambiate completamente. Il nodo, le nostre, sono delle cravate che hanno una buona corposità, quindi un solo nodo semplice. E' il nodo che maggiormente va bene per queste nostre cravate. Ma noi, la cosa divertente è che anche due o tre volte a settimana noi facciamo dei corsi di nodo. Per cui i clienti vengono qua, si fanno consigliare qual è il tipo di nodo più giusto per loro e insegniamo spesso e volentieri anche il nodo del papillon. Perché il papillon molti lo comprano già annodato. Mentre invece mio nonno e mio padre mi dicevano che il papillon deve essere rigorosamente da annodare. Quindi quando vengono noi facciamo lezioni di nodo e ci divertiamo molto con i clienti. Grazie. Grazie a te. 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 Grazie a te.